Oggi impariamo i nomi di questi segni di punteggiatura. Come si chiamano in italiano? Questo è il punto fermo, o solamente punto, il punto. Questa è la virgola, virgola, la virgola. Questi sono i due punti, due punti. Questo è il punto e virgola, punto e virgola. Questo è il punto interrogativo, punto interrogativo. L'ultimo segno di punteggiatura che vediamo insieme oggi è questo. Questo è il punto esclamativo, punto esclamativo.